Nel nostro documento delle regioni per la sanità abbiamo chiesto 2 miliardi e mezzo a livello nazionale, per la Toscana circa 150 milioni in prospettiva del bilancio 2021. Lo ribadisce il presidente della regione toscana Eugenio Gianni che non si ferma qui però. Soprattutto si chiede il rimborso di tutte le spese per l'emergenza Covid perché, dice, non si poteva immaginare la necessità di 90 hub e le problematiche per la vaccinazione. Gianni ha ricordato inoltre che il Recovery Fund ci offre a livello nazionale 2 miliardi per poter sistemare le case di comunità, 2 miliardi per gli ospedali, per le cure intermedie ed altrettanti per l'assistenza domiciliare. Per ognuno di questi capitoli nazionali la Toscana ha i suoi 120-130 milioni. Ma quindi cosa facciamo, prosegue Gianni, di ospedali senza personale? Questo significa, ha concluso il presidente della Toscana, che il sistema sanitario nazionale dovrà essere adeguato a livello di spesa pubblica. La sanità perciò deve avere una parte più importante. Si auspicano perciò nuovi scenari che la fase post-Covid richiede.